Perché il regno di Dio non ha limiti. La religione ha limiti. Ascoltate. Nella Chiesa Cattolica Romana hanno messo Dio in cornice. In un quadro. Hanno dato un limite a Dio. E' lo stesso meccanismo religioso di Pietro e degli altri due apostoli. C'è la manifestazione della gloria di Dio. Bene, facciamo tre tiende. Dove è stato il problema? Perché si dicevano facciamo tre tiende. Una per me che sono Pietro, una per Giovanni e una per Giacomo. Voi state liberi fuori lì a fare tutte le vostre cose. Noi stiamo in tenda e vi contempliamo. Non sarebbe stato un problema. Qual era il problema? Facciamo tre tiende. Una per te, una per Mosè e una per Elia. No. Perché Dio non ha limiti e non sta in una tenda. Questo è il recinto. La gloria di Dio non sta in un limite. Questa è la religione. La religione pone sempre un limite. a Dio. Ma Dio non ha limiti. Secondo voi, le chiese, in generale, hanno posto delle cornici intorno a Dio? Certo. E' lì il problema. Perché nella chiesa cattolica romana le vediamo chiare le cornici. Ma noi cristiani nati di nuovo, pentecostali, più o meno pentecostali, non vediamo la nostra religione. Ma l'uomo ha un limite. L'uomo ha un limite. E il tuo corpo è il tuo corpo. Ecco perché siamo abituati a porre per sicurezza sempre un limite a Dio. Se noi fossimo solo spirito, capiremmo veramente com'è Dio. Perché Dio è spirito. Perché Dio è spirito. E non ha limiti. E noi siamo creati immagini e somiglianza a Dio. Quindi il tuo spirito è uguale al tuo padre. Non ha limiti, vola. Non ha limiti, si vuela. Come mai in uomini tanti c'è proprio questa indole che sogniamo di volare nell'inconscio? Perché tantos uomini hanno questa gana nel subconsciente di volare? O ci sono tanti che fanno proprio sport estremi per volare e rischiare sempre peggio. O hai molti che fanno sport estremi per volare e sentirsi libri. Perché è la sofferenza e la frustrazione dello spirito dell'uomo che è quella la vera condizione. Perché è il soffrimento dell'espirito dell'uomo che sape che è il suo vero luogo. E chiaramente viene applicato in modo sbagliato. E viene applicato in modo equivocato. E qualcuno muore anche fisicamente davvero. E qualcuno muore di forma fisica. Ma perché è il desiderio dell'uomo di volare? Perché è il desiderio dell'uomo di volare? Perché era la libertà che era prima del peccato. Perché era la libertà che aveva antes del peccato. Perché Adam e Eva non avevano un limite. Perché Adam e Eva non tenivano limite. Perché anche il loro corpo era sottoposto al loro spirito. Perché també il suo corpo estaba debaixo del suo spirito. Ora è tutto arrovesciato. Ora è tutto al rivese. Lo spirito sta sotto la situazione naturale del corpo. El spirito sta debaixo la situazione naturale del corpo. Ma lo spirito tuo è costretto nella prigione del tuo corpo